Andiamo dalla parte est del Monte Manos e troviamo le trincee, come vedete qua, le prime che sono state fatte sul Monte Manos perché durante la grande guerra il Monte Carden, nonché sulla Vesta, era troppo vicino al nemico che era posizionato a Vesta e non furono installate le trincee, furono installate subito dopo per la difesa del posto e queste qui furono le trincee più avanzate che aveva l'esercito italiano verso la Val Vestino ormai ne è rimasto veramente un gran poco, però serviva per difendere la Vesta del Manos, nonché la cima Iogonello che è le strade davanti. Adesso purtroppo causa le mie condizioni fisiche, non quelle del Zamba torneremo e faremo il kart della prossima volta